Martedì 18 ottobre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle Signore su Rai 1. In tale occasione vedremo che Azio studierà un piano per riuscire ad ottenere l'annullamento del matrimonio da gloria Nel frattempo, però, la relazione tra i due genererà molta curiosità I giornalisti che intervisteranno Stefania in occasione della presentazione del suo libro mostreranno particolare interesse proprio per tale vicenda Clara, invece, rischierà di essere scoperta, ma Alfredo riuscirà a proteggerla, ancora una volta Vediamo tutto quello che succederà Clara quasi scoperta al Paradiso delle Signore Le anticipazioni della puntata del 18 ottobre del Paradiso delle Signore rivelano che Ezio farà di tutto per riuscire a trovare il modo di ottenere l'annullamento del matrimonio con gloria L'uomo sembrerà anche essere riuscito a trovare un escamotaggio Vittorio, invece, parlerà con le Veneri dell'iniziativa inerente Il lancio della posta del cuore, la nuova rubrica che riguarda la rivista del Paradiso Market Clara, intanto, continuerà a trascorrere le notti in magazzino e la situazione comincerà a generare un po' dei sospetti nei membri dello shopping center Irene, infatti, comincerà a sospettare di perico Nello specifico, penserà che Alfredo sia solito portare le sue conquiste in magazzino Il ragazzo, allora, dovrà immediatamente trovare il modo di salvare Clara, pertanto, si vedrà costretto a raccontare una bugia Anticipazione 18 ottobre, Vittorio cerca il perdono di Matilde su di un altro versante, poi, vedremo che Vito avrà fatto il colloquio per il posto da contabile al Paradiso delle Signore Nella puntata del 18 ottobre, però, scopriremo che l'uomo non è stato assunto in un primo momento In seguito, però, a causa di un imprevisto, le carte in tavola verranno completamente cambiate L'uomo, dunque, diventerà un membro dello staff Intanto, Stefania andrà alla presentazione del suo libro e verrà intervistata da numerosi giornalisti Molti di loro, però, mostreranno un certo interesse soprattutto per la storia tra Ezio e Gloria Le domande sul loro matrimonio saranno davvero moltissime, pertanto, Marco avrà un'idea Il giovane riuscirà a prendere appuntamento con un giornalista per farsi che i due protagonisti rilascino un'intervista privata Per quanto riguarda Vittorio, infine, l'uomo sarà mortificato per come si è comportato nei confronti di Matilde Il direttore dello shopping center, infatti, farà di tutto per cercare di riconquistare la fiducia della dama Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate